Per guadagnare una cifra che non ho mai guadagnato, devo diventare una persona che non sono mai stata. Per guadagnare una cifra che non ho mai guadagnato, che cosa vuol dire? Vuol dire che devo pensare in modo diverso, devo ragionare in modo diverso, devo espandere la mia mente perché far soldi è 80% psicologia e 20% tecnica. E più cresco e più imparo e più mi rendo conto che non è solo 80-20, è 90-10. Cioè la mia testa inconta molto di più rispetto alla parte tecnica. Perché quello che succede è che fuori dai miei corsi io insegno la tecnica uguale a tutti. Ma com'è possibile che qualcuno diventa ricco e qualcuno no? Per la parte psicologica.